Bustarsitio da tappa Mipaf, siamo con Mario Rota, quanti cavalli hai portato? 12, 7 li monto io e i miei allievi gli altri. Sei considerato uno dei bravi preparatori, i grandi preparatori che abbiamo in Italia. C'è qualche cavallo importante che stai montando? Ne ho due o tre che secondo me diventano dei buoni cavalli, due o cinque anni e una di sette che possono, promettono bene, poi bisogna vedere perché sono ancora già buoni cavalli. Qual è il rapporto che avete con un allevatore? Che rapporto si può costruire con un allevatore? Non è facile, ho degli allevatori però che lavorano con me da tanti anni, ci basiamo molto sulla fiducia, sfornano dei buoni cavalli e poi noi cerchiamo di fare il meglio per portarli avanti. Poi è logico che non puoi far contenti tutti gli allevatori, c'è chi è più contento, chi meno, cerchiamo di fare il meglio. Grande preparatore e come istruttore come ti trovi? Bene, adesso ho abbastanza allievi, ho una ventina di allievi per cui devo unire un po' le due cose, però le gestisco bene direi, i ragazzi che ho sono tutti bravi, sanno che ho due attività e mi danno una mano anche loro insomma, per cui alla fine vedo che riusciamo a fare tutto bene. Poi c'è Lisa che mi dà una grossa mano direi. Il campionato italiano per i giovani cavalli è diviso in due, uno MIPAF e l'altro Federazione, tu partecipi a tutti e due? Ma io è già qualche anno che faccio solo il MIPAF e vedo che poi alla fine, alle finali i cavalli vanno meglio perché arrivano un po' più freschi e con meno salti nelle gambe, però vedo che alla fine premia questa cosa, adesso sono 3-4 anni che faccio così e mi trovo meglio. Poi non è detto, qualche tappa magari la faccio ma non seguo tutto il circuito dell'eccellenza. Per cui l'importante per un preparatore è avere la testa e conoscere bene i cavalli che sta montando. Sicuramente, ci sono dei cavalli che vanno aspettati, poi i cavalli giovani non bisogna avere fretta, bisogna avere tanta pazienza e cercare di tirar fuori il meglio. Bene, grazie mille e complimenti. Prego, grazie a voi.